Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione do il via all'analisi di quelli che sono i comandamenti cristiani, i dieci comandamenti. Lo so che nella Bibbia sono dieci, sono venti, sono messi in modo diverso ma non mi interessa più di tanto la questione. A me interessa essenzialmente qual è l'apporto morale, qual è l'apporto etico, qual è l'apporto giuridico dei cosiddetti dieci comandamenti cristiani nei confronti della società in cui viviamo. Ed è proprio dall'analisi di questi dieci comandamenti, come di tutte le cose che noi facciamo, che si rileva ciò che non ci piace, ciò che non va bene, ciò che va condannato nella società in cui viviamo ed essenzialmente nel monoteismo per contrapporre chiaramente una visione diversa della vita e una visione diversa della società. Questo pezzo che vi sto a leggere e che non lo finirò oggi, lo finirò mano a mano che vado avanti perché non credo che 14 pagine in carattere 10 possano essere lette in una trasmissione di un'ora scarsa. Mi è stato praticamente chiesto di scrivere questo commento da Franco. Franco ha trovato l'esigenza di rispondere ad alcuni cattolici sui gruppi di internet che continuavano a esaltare quella che era la positività dei dieci comandamenti. Cioè dieci comandamenti come un qualcosa di positivo, un qualcosa di bello portato dal cristianesimo e dal giudeismo alle società umane. Bene, Franco mi ha chiesto questo, in un certo periodo sono riuscito a fare il lavoro, il lavoro è stato messo in internet, Questa pagina, comprendente tutti i dieci comandamenti, in poco tempo, relativamente poco tempo, è stata letta da 600 persone. Cioè 600 persone sono venute in internet e hanno letto questa pagina ad una velocità di oltre 150 pagine aperte al mese. Praticamente tutti i giorni, tutti i giorni, dei cinque alle sette persone vengono a leggersi questa pagina in internet. Tutti i giorni, tutti i giorni, ripeto. Tanto per farvi capire quanto questa pagina in realtà sia importante, non solo per la diffusione del paganesimo, ma proprio per riuscire a far capire quali sono i concetti religiosi del paganesimo, proprio in contrapposizione al monoteismo, perché non dimentichiamoci che la società nella quale stiamo vivendo è la società monoteista, obbedisce alle regole monoteiste e gli sforzi degli uomini sono gli sforzi di uscire dall'orrore cristiano, sono gli sforzi di uscire dal monoteismo. Ebbene, commento ai comandamenti ebraici di Mosè fatti proprio dai cristiani. Premessa Terrore vero e falsa schiavitù in Egitto Innanzitutto, la presentazione dei comandamenti si apre con una truffa. È importante sottolinearla, in quanto è alla base dei comportamenti morali giudaico-cristiani, in antitesi a tutti i sistemi giuridici e morali che i popoli si sono dati sia prima dell'avvento del cristianesimo che nell'epoca moderna dopo l'avvento dell'illuminismo. E' scritto nell'Esodo, cito l'Esodo, e aggiunse Va il popolo e fa che si preparino oggi e domani, si lavino le vesti e siano pronti per il terzo giorno, poiché il terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai al cospetto di tutto il popolo, indicherai un limite al popolo intorno al monte e gli dirai guardatevi dal salire il monte o toccare la base. Chi toccherà il monte sarà fatto morire, però nessuno porterà la mano su di lui, sarà lapidato o colpito da frecce, tanto l'animale che l'uomo non sia lasciato vivo. Quando invece il corno suonerà distesa, allora salgano essi al monte. Mosè scese dunque dal monte e andò al popolo e lo fece preparare. In sostanza, nel pezzo del Deuteronomio, la gente viene colpevolizzata perché aveva paura e contrapposta al coraggio di Mosè, dimenticando che la complicità del padrone di Mosè e Mosè stesso l'avevano terrorizzata sia con le minacce di morte, se qualcuno avesse toccato la montagna, sia con la rappresentazione dell'apparizione del Dio degli ebrei. terrorizzare al fine di impedire psicologicamente di verificare. Terrorizzare al fine attraverso il terrore possono essere imposte alle persone questi comandamenti. Solo attraverso il terrore possono essere imposte alle persone questi comandamenti in questa forma. Solo il terrore che attraverso le persone può impedire a queste di osservare le implicazioni che l'accettazione di questi comandamenti implica. Solo il terrore impedisce alle persone di verificare cosa implica accettare questi comandamenti nella forma in cui il Dio padrone degli ebrei prima e dei cristiani poi la impone. Il terrorizzare è il motivo fondante il potere di possesso del decalogo ebraico cristiano. Senza il terrore di queste leggi non hanno nessun valore. Incutere il terrore prima al fine di imporre i comandamenti. Perché? Perché se non viene imposto il terrore alle persone queste non accolgono il decalogo ma pretendono di discuterlo. E il Dio degli ebrei e dei cristiani non può permettere che gli uomini si elevino al suo stesso rango discutendo i suoi ordini e la sua parola. Infatti nella Genesi il Dio padrone dei cristiani dice Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi avendo la conoscenza del bene e del male che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. La versione dell'Esodo e quella del Deuteronomio si collocano in situazioni complessive differenti. Il fatto che usi per il commento una versione della Bibbia cattolica popolare non deve trarre in inganno. Il mio scopo non è quello della precisione culturale, questo aspetta gli specialisti ma è quello di svelare e mettere in luce la manipolazione della struttura emozionale degli individui al fine di distruggere le loro possibilità di determinare se stessi nella loro esistenza. Per questo motivo il procedere nell'analisi dei comandamenti ebraico cristiani sarà un commento assolutamente legato alle tradizioni di cui io dispongo e che sono l'oggetto di propaganda e di manifestazione della parola del padrone ad opera dei cattolici. L'imposizione del Dio padrone avviene con la menzogna. Allora poteva funzionare giocando sull'immaginazione delle persone. Oggi la realtà archeologica ha dimostrato essere una menzogna. Si tratta della schiavitù in Egitto degli ebrei. La menzogna è affermare che ci fu un esodo dall'Egitto nelle dimensioni e nella situazione trattate dal testo della Bibbia. L'archeologia ha dimostrato come non ci sia stato nessun esodo e come la stessa schiavitù in Egitto descritta nella Bibbia appartenesse all'immaginario ebraico come gli ebrei intendevano nella loro società la schiavitù e come gli ebrei la praticano nel loro sistema sociale e non nella realtà sociale dell'antico Egitto. Il primo elemento che ci troviamo a discutere è attraverso cosa il Dio degli ebrei pretende di essere il padrone degli ebrei e al quale gli ebrei debbono obbedienza. Il Dio degli ebrei rivendica il proprio diritto a dominare gli ebrei attraverso l'affermazione di una situazione oggettiva l'uscita dalla schiavitù dall'Egitto. Una realtà falsa crea un falso obbligo. Peggio ancora, una realtà falsa crea una schiavitù vera ed è esattamente il senso della premessa ai comandamenti. Dal momento che tu, dice il Dio degli ebrei, eri schiavo in Egitto e io ti ho liberato da quella schiavitù, tu ora devi essere il mio schiavo e obbedire a quanto ti ordino. Relazione padrone-schiavo all'origine dei comandamenti ebraici. Comandamenti ebraici, per la prima volta nella storia, elevano una condizione sociale a condizione divina tentando di fissarla nel tempo. Quelli che sono i privilegi dei possessori di schiavi vengono estesi ab eternum attraverso una situazione sociale che non è il frutto del divenire e degli adattamenti della società, ma è manifestazione della volontà del Dio padrone a cui gli ebrei fanno riferimento. La cosa torna utile ai cristiani e ai cattolici in particolare sancire il loro essere padroni dei sistemi sociali umani non per necessità dei sistemi sociali, ma per volontà del Dio padrone alla quale si devono piegare le tensioni e i bisogni degli esseri umani. I comandamenti dell'Esodo e del Deuteronomio, detti comunemente dai cristiani i Dieci Comandamenti, hanno una funzione, sancire la schiavitù come manifestazione del Dio, un Dio che di volta in volta massacra gli esseri umani attraverso il diluvio universale o che si nasconde dietro un trascendente inarrivabile al fine di sottrarsi al giudizio e alla condanna della ragione umana. I comandamenti sanciscono la schiavitù. Con i Dieci Comandamenti la Chiesa Cattolica sancisce il suo diritto a detenere schiavi, lo dice il suo Dio creatore dell'universo. Una schiavitù che non è di ordine sociale o economico, ma rappresenta un metodo di relazione fra gli esseri umani e un sistema sociale, ma è metodo di dominio, non rappresenta un metodo di relazione sociale fra gli esseri umani e un sistema sociale, ma è metodo di dominio religioso dei predestinati su tutti gli esseri umani. I predestinati, la razza superiore, gli eletti, chiamateli come volete. Attraverso i comandamenti si sancisce l'emarginazione che di volta in volta, come vedremo nel corso della storia, colpisce questo o quel popolo, questo o quell'etnia, questo o quell'individuo sociale. Del diritto del Dio padrone al dominio degli esseri umani si fanno garante questo o quel padrone, questo o quel comando sociale, questo o quell'autorità, questa o quella razza. I comandamenti dell'Esodo e del Deuteronomio è quanto di più squallido e infame la storia umana abbia assistito. Le leggi umane sono fatte per limitare il dominio assoluto. Le leggi umane negano un dominio assoluto e circoscrivono il dominio degli individui entro ambiti di esercizio. I comandamenti ebraici, fatti propri dai cristiani, vengono a meno a questo elementare principio per garantire al detentore della parola del Dio padrone il diritto di sterminare tutti gli esseri umani in nome e per conto del Dio dei cui comandamenti si fa garante. Veniamo ora a trattare i vari argomenti prendendoli dall'Esodo. Parte prima. Io sono il Signore e Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù. In questo pezzo appare chiara l'affermazione che questo personaggio, il Dio padrone dei cristiani o per bocca di Mosè, scegliete voi la versione che preferite, afferma di essere il padrone di esseri umani. Per riuscire a comprendere questo ordine che diventa fondamento giuridico è necessario collocarlo nella sua manifestazione. Dio non dà quest'ordine a tutta la gente. La gente è timorosa, la gente è sottomessa, la gente ha paura. Il popolo non è in grado di affrontare le proprie responsabilità, deve essere condotto. Il popolo è oggetto di possesso, non è un insieme di individui portatori di volontà. Ricordate, è Dio che li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, non sono loro che si sono ribellati. Il loro Dio rinfaccia a loro la viltà, vera o presunta che sia. È a Mosè che Dio dà le leggi. Mosè è uguale a Dio. Mosè porta le leggi al popolo. Mosè impone le leggi che Dio gli ha dato al popolo che deve riceverle. Il popolo riceve quelle leggi senza discuterle perché il popolo ha paura, è terrorizzato. Mosè e Dio formano una coppia di potere che impone le leggi sul popolo. Solo che Dio, una volta date le leggi a Mosè, si nasconde dietro il paravento di infinita irraggiungibilità, mentre Mosè ha portato le leggi. Mosè diventa il vero Dio fisico del popolo di Israele. Mosè diventa il Signore Dio a cui il popolo di Israele dovrà obbedienza. Mosè e Dio sono la stessa cosa davanti agli occhi del popolo. Solo Mosè ha retto lo sguardo di Dio. Solo Mosè non ha avuto paura. Poi le leggi vengono messe in un'arca, l'arca dell'alleanza. Mosè muore e rimangono i successori. I successori, proprio perché successori del potere che Dio ha dato a Mosè, sono i veri i Dio del popolo di Israele. Così il passaggio del dominio è completato. La gerarchia sociale è confermata dalla gerarchia divina che rende manifestazione divina la gerarchia sociale. La violenza, come diritto di manifestazione, appartiene a Dio che punisce è Mosè che esegue. Non più giustizia al di fuori del volere del Dio padrone. Non più rivolte. Non più modificazione delle regole sociali. Non più modificazione delle leggi. Non più modificazione dei costumi. La verità di Dio è immodificabile. Tutto deve avvenire all'interno della volontà di Dio che ha scelto che il popolo sia sottomesso a Mosè, dando a Mosè le leggi a cui il popolo deve obbedienza. Dio non deve rispondere a nessuna legge. Mosè non deve rispondere a nessuna legge. Voitila non deve rispondere a nessuna legge. Sharon non deve rispondere a nessuna legge. I discendenti di Mosè, nella misura in cui continuino ad essere i depositarli della legge, non devono rispondere a nessuna legge. Solo il popolo deve essere obbediente alla legge di Dio e ai suoi esecutori. Seconda parte. Secondo comandamento, come si dice. Non avrai altro Dio fuori che me. Non ti farai nessuna scultura, né immagini di cose che splendono nel cielo o sono sulla terra. Non adorar tali cose, né servir loro perché io, il Signore Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e dei figli fino alla terza o quarta generazione di coloro che mi odiano. Ma uso clemenza fino alla millesima generazione verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Dunque è il non avrai altro Dio fuori che me. La seconda legge è la riaffermazione della prima con una serie di minacce conclusive. L'io sono il tuo padrone. Si colloca in un contesto sociale in cui il pericolo per lui avviene dal riconoscimento da parte degli esseri umani dell'esistenza del divino negli oggetti del mondo. Il Dio padrone degli ebrei teme che gli ebrei scoprono la volontà divina degli oggetti del mondo, animali, piante, stelle, sole, eccetera. Se gli ebrei scoprono che questi oggetti esistono per volontà propria, manifestano anche la convinzione che dentro ogni essere umano c'è un Dio che tende a crescere. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi avendo la conoscenza del bene e del male che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Lo stesso essere umano qualora sia rappresentato in una statua diventa un modello da indicare. Un modello concentra su di sé le emozioni degli altri esseri umani, compatta la propria volontà, li può rendere coraggiosi. Quando l'essere umano diventa coraggioso può salire quella montagna e svelare la vera natura del Dio padrone. Il coraggio negli esseri umani deve essere annientato. Gli esseri umani devono vivere nella paura e nel terrore. Non devono avere nessun appiglio che rientra nella loro realtà. Non devono avere nessun alpiglio al quale ancorare le loro emozioni se non il terrore dell'idea stratta di un Dio padrone è pronta a punire loro e i loro figli fino alla quarta generazione, ma che dà un premio alla loro paura che li induce all'obbedienza fino alla millesima generazione. Solo che la generazione attuale dimentica. La generazione dopo la mia sarà altrettanto sottomessa ed obbediente oppure troncherei benefici per la generazione successiva. Cosa viene punito e cosa viene premiato? E dove ho la sicurezza del premio visto che il Dio padrone non è tenuto al rispetto di nessuna legge e di nessun patto? Di lui si dice che è buono, ammazza i primogeniti e fa discendere le mie colpe a chi nasce. Dove sarebbe questa bontà se non nella soddisfazione dei suoi desideri sadici? È il sadismo del padrone che lo esercita arbitrariamente, non è sottoposto a nessuna legge, in quanto è padrone per mandato del Dio padrone che deve essere garantito da ogni rivendicazione. Ho paura di perdere il bestiame, dice il Dio padrone degli ebrei. Ma gli ebrei, sotto questa legge, quale legge applicheranno ai loro simili? Quale legge applicheranno agli altri popoli? Essi sono il popolo eletto, sottomesso e schiavo al loro Dio padrone e, dunque, si ritengono padroni di altri popoli che ritengono schiavi e in dovere di servire loro. Questione di rapporti di forza, non di diritto. Un esempio lo abbiamo avuto nella storia da parte dei cristiani che ritenevano, che si ritenevano in diritto di stuprare tutto il mondo, ogni popolo e ogni cultura, al fine di sottomettere della volontà del loro Dio geloso. Per questo i cristiani sono stati premiati quali padroni degli esseri umani? La questione delle statue e delle immagini appartiene alla situazione culturale nella quale questi comandamenti sono imposti. La questione reale non è se fare questa o quell'azione, non è se fare o non fare le immagini. La vera questione è come usare le immagini per ottenere una migliore sottomissione. Se i popoli vicini si fanno immagini degli dèi, attribuendo simbolicamente loro le virtù che quei popoli considerano moralmente approvate, come si può costruire un'immagine di un Dio che sparge e pretende terrore e far aderire a quell'immagine il cuore sottomesso degli esseri umani? nelle immagini l'uomo proietta le sue passioni, mai la sua codardia. Questo comandamento suona anche non avrai nessun altro comando sociale al di fuori che me. Io sono colui che domina su di te e tu non desidererai che nessun altro al di fuori di me domini su di te. Fu uno dei motivi per i quali Paolo di Tarso affermò che il padrone è padrone per volontà di Dio e che al padrone si deve la stessa obbedienza che si deve a Dio ed è lo stesso discorso per il quale i re sono re per volontà di Dio e finché i francesi non tagliarono la testa al re questi per volontà di Dio conservava la prerogativa di fare miracoli. Lui e Dio erano forti. esattamente come Mosè e Dio. Non nominare il nome del Signore il Dio tuo in vano poiché il Signore non riterrà innocenti chi preferisce in vano il suo nome. Nomina un milione di volte il nome e ridurrai l'immagine prodotta alla sua vera dimensione. La vera dimensione è il vero nome delle cose. L'immaginario è quanto coinvolge l'essere umano che si sottrae alla realtà. Quando l'immaginario viene riprodotto nella realtà assume un ridimensionamento relativo alla realtà in cui l'individuo vive. È una delle cose che terrorizza maggiormente il Dio degli ebrei essere ridotto a puro parto dell'immaginazione. Il Dio degli ebrei è apparso su una montagna nella fuligine fra i fulmini mentre il popolo era terrorizzato. Il popolo deve essere terrorizzato al suo pensiero dell'ira del suo Dio solo che il suo Dio non esiste. Esiste solo l'ira e il terrore che incute e che viene alimentato da Mosè e dai suoi eredi. Il terrore per Mosè e i suoi eredi è possibile solo se il Dio continua ad incutere il terrore e le persone sono terrorizzate dall'immaginario che quel Dio alimenta nelle loro teste. Il nome della cosa in senso religioso manifesta la natura intima della cosa stessa la sua realtà nella realtà noi ci misuriamo con le cose che ci circondano e proprio per il fatto di misurarci con le cose che ci circondano queste assumono un significato il nome delle cose non è un insieme di lettere ma manifesta le emozioni che noi proviamo nel misurarci con la stessa cosa la grande emozione di una scoperta si trasforma in quotidianità quando quella scoperta assume un nome e viene usata tutti i giorni il suo uso non suscita più l'emozione della prima volta diventa normale provate ad immaginare un essere umano che scopre di poter usare un tronco per attraversare un piccolo lago giorno dopo giorno pratica dopo pratica diventa abile non è più l'emozione della prima volta diventa l'abilità della propria esistenza ed è così per l'immenso terrore che incute il Dio degli ebrei se avete paura ad affrontarlo nell'immaginazione umana appare come un gigante inarrivabile temuto ma se viene nominato e se ne elencano gli attributi se lo si verifica nella pratica quotidiana se si mette alla prova la sua parola lo si riduce a quello che è un'impostura il Dio degli ebrei prima e dei cristiani poi è solo una menzogna che si rivela nominandola per questo motivo viene proibito di nominare il nome e di svelarne la vera natura saranno le lapidazioni e le atrocità che manifesteranno nel sistema sociale il terrore del Dio degli ebrei mentre a Roma Antica si diceva che le offese fatte agli dèi sono una questione che riguarda gli dèi fra gli ebrei e fra i cristiani si praticherà il terrore per imporre agli individui la realtà emozionale del loro Dio padrone fino a pochi anni fa in Italia la bestemmia era considerata ancora un reato ma che cos'è la bestemmia? non è altro che la riaffermazione emozionale della vera natura del Dio padrone dei cristiani tipo il popolare porco Dio non è forse lui che ha macellato l'umanità con il diluvio universale dunque è un criminale assassino che in termini popolari immediati suona come un'affermazione emozionale piena di ribellione al suo dominio appunto porco Dio e avanti ricordati del giorno di riposo per santificarlo per sei giorni lavorerai e attenderai le opere tue ma il giorno settimo è giorno di riposo per il Signore e Dio tuo non fare non fare in quello alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo servo né la tua serva né il bestiame o il forestiero che è dentro le tue porte poiché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra e il mare e tutto quello che essi contengono ma il settimo giorno si riposò per questo il Signore benedisse il giorno del sabato e lo santificò in questo comandamento si manifesta una truffa atroce è stato spesso spacciato come necessario affinché gli uomini si riposassero dalle fatiche degli altri sei giorni questo come se nell'antichità si lavorasse sette giorni su sette questo comandamento va letto nel modo corretto lavorerai sette giorni il lavoro del settimo giorno è costringere te stesso e tutti coloro su cui domini per santificarlo il settimo giorno dice il Dio padrone lo dedichi a me per gli ebrei e per il comando sociale questo sarebbe un riposarsi in realtà non è vero è il lavoro dei lavori in quanto è la rinuncia a se stessi per dedicare se stessi al proprio Dio padrone che ha lavorato sei giorni e il settimo si è riposato ma il Dio padrone il settimo giorno non l'ha dedicato agli uomini però pretende che gli uomini lo dedichino a lui sei giorni lavorerai 24 ore su 24 e il settimo giorno mi onorerai 24 ore su 24 qualcuno dirà ma non è così è vero non è così ma solo perché l'essere umano ha dei limiti fisici fino a non molto tempo fa si lavorava 12 14 ore al giorno e spesso anche 16 ore anche le donne anche oggi avviene in molti luoghi questa è la volontà del Dio padrone degli ebrei e dei cristiani per il Dio degli ebrei non esiste una vita al di fuori di due sole occupazioni il lavoro e la sua santificazione gli individui in quanto tali per il Dio degli ebrei non esistono non hanno una soggettività non hanno bisogni non hanno desideri solo lui ha il desiderio di essere santificato solo il comando sociale degli esseri umani vuole essere santificato onorato riconosciuto ed esaltato non di riposo per l'uomo si tratta ma di astensioni dalle normali occupazioni al fine di lavorare a santificare il Dio degli ebrei c'è un altro aspetto aberrante letto con gli occhi di oggi ma anche con quelli di ieri che passa dall'essere una condizione sociale a manifestazione della volontà e del dettato divino del Dio degli ebrei e dei cristiani poi da poco la nostra corte di Cassazione a proclamare a poco la nostra corte di Cassazione a proclamare in sentenza che i bambini sono dei soggetti di diritto il Dio dei cristiani e degli ebrei afferma che sono solo oggetti di possesso il figlio è cosa tua come cosa tua è tua figlia il bestiame è cosa tua e così a te deve obbedire anche il forestiero che è dentro le tue porte l'individuo che è padrone per volontà del Dio padrone ed esercita la padronanza non in funzione del buon vivere ma in funzione dell'obbedienza e della santificazione del suo stesso padrone il settimo giorno ha la funzione di riaffermare la sottomissione degli individui al Dio padrone e il Dio padrone si congratula vedendo come gli ebrei e i cristiani lo santificano fermando la loro attività e mentre fermano la loro attività santificando il Dio padrone per riposo senza accorgersi che il Dio padrone ha imposto loro sei giorni di lavoro conclusione della prima parte e prefazione della seconda parte vi ricordate che in dieci comandamenti c'è una prima parte e una seconda parte una tavola e un'altra tavola come dicono i cristiani no la prima parte di quella che comunemente viene definita i dieci comandamenti ci parla del dominio di Dio sugli esseri umani un dominio assoluto che il Dio degli ebrei e dei cristiani giustifica col fatto che gli esseri umani sono dei vigliacchi sono dei vigliacchi e devono essere mantenuti nella codardia mediante il terrore continuo e sistematico da un lato ci sono le minacce del Dio padrone e dall'altro lato ci sono tutte quelle azioni di dominio e di repressione che in nome del Dio padrone e degli ebrei e dei cristiani avvengono nei confronti degli esseri umani che non si sottomettono con tutto il loro cuore e tutta la loro anima alle pretese del Dio padrone le guerre per imporre il Dio padrone appartengono agli ebrei prima e ai cristiani dopo la repressione sociale per imporre la sottomissione e l'obbedienza al Dio padrone e ai suoi ordini è propria degli ebrei prima e dei cristiani e musulmani dopo gli ebrei con l'abitazione in nome del loro Dio e i cristiani con i roghi in nome del loro Dio hanno segnato profondamente la storia dell'umanità il Dio padrone degli ebrei e dei cristiani è al di fuori della legge la legge è quanto serve lui non regola di equilibrio fra poteri o fra soggetti la legge serve il comando sociale che si identifica con il Dio padrone per ottenere obbedienza non affinché il più debole riesca ad avere giustizia nei confronti del più forte a Murabi una legge che consenta il più forte di pretendere sottomissione una legge che legittimi il più forte ad usare violenza e stragi sul più debole pur di ottenere sottomissione assoluta è forse una delle cose più atroci a cui l'umanità abbia assistito o abbia subito la seconda parte dei comandamenti deve essere interpretata nell'insieme in cui viene espressa cosa significa questo? significa che non possiamo parlare della seconda parte dei comandamenti senza inquadrarli nella prima parte il concetto di non uccidere è un concetto acquisito in quanto ovvio nelle relazioni umane un concetto ovvio che tuttavia manifesta numerose eccezioni all'interno delle quali uccidere è altrettanto ovvio il problema è dato dalle eccezioni e da chi gestisce le eccezioni il dio padrone nella prima parte ordina di non proferire in vano il suo nome il non uccidere viene meno per coloro che gestiscono il diritto del dio padrone di terrorizzare costoro uccidono chi ha proferito in vano il nome del dio padrone così il non uccidere che appare ovvio a chi non ha il potere sociale di uccidere diventa pratica di uccisione per chi deve imporre e a chi non si può difendere il dovere di non uccidere affermare di non uccidere senza definire altri mezzi attraverso i quali risolvere le contraddizioni che attanagliano la vita delle persone equivale a costringere le persone a subire la contraddizione senza avere dei mezzi attraverso i quali risolverla la soluzione della contraddizione mediante l'uccisione è punita con l'uccisione vedremo come il diritto occidentale altro non è che un processo progressivo di libertà sociali manifestato all'interno di una struttura giuridica assolutistica alla cui base non ci sono leggi ma il diritto del delegato del dio in terra di manifestare arbitrariamente la sua volontà al fine di godere il dominio assoluto delle persone dalla magna carta ad oggi la storia insegna l'interpretazione della seconda parte considera che le persone il popolo ebreo e cristiani sono il popolo del dio padrone che ha imposto il suo dominio sottraendosi a sua volta dall'essere un soggetto di giudizio delle persone del popolo stesso dio è il padrone e nessuno ne può sindacare le azioni in quanto padrone dice al suo greggio come il greggio si deve comportare affinché il padrone possa prosperare col suo greggio la seconda parte dei comandamenti viene imposta alle persone che sono all'interno di una stalla o di un recinto e sono nutrimento per il dio tante più sono quelle persone che agiscono secondo le direttive del dio tanto più quel dio si nutre della loro devozione quantità e qualità dove la quantità sono il numero delle persone in ginocchio sottomesse ai detami del dio padrone mentre la qualità è l'assoluta devozione del dio padrone che ottiene sia per terrore minacce le ritorsioni sia per riconoscenza di quanto lui le ha tratte fuori dalla terra d'Egitto casa di schiavitù rifletteteci passiamo alla seconda parte con questo comandamento c'è la volontà di distruggere la possibilità dell'uomo di guardare il tempo che gli viene incontro i figli vengono piegati sul modello dei padri i padri furono terrorizzati i padri insegnano ai figli come comportarsi all'interno del terrore che li attanaglia i figli sono costretti mediante il terrore ad appiattirsi sui comportamenti dei padri i comportamenti dei padri fanno affluire dentro di loro il terrore che costruisce l'ansia attraverso la quale loro volta trasmetterlo ai figli padre e madre padroni dei figli e figli in funzione del padre e della madre quanto si rallegrano il padre e la madre che vecchi sono serviti dai figli è l'esempio fisico che serve ai figli per riprodurre il loro dominio sui loro figli a loro volta i genitori deperiscono così anche i figli deperiranno i genitori sono bisognosi di aiuto così anche i figli prevedono di essere un giorno bisognosi di aiuto questo sistema mentale cortocircuita su se stesso e si regge soltanto nella misura in cui il sistema sociale non costruisce strutture in funzione di se stesso si regge solo in assenza di uno stato sociale uno stato sociale che non viene organizzato o viene organizzato in maniera approssimativa al solo fine di impedire ai figli di sottrarsi dal controllo emozionale dei genitori per contro l'ansia che un simile sistema genera produce una violenza estrema per chi non partecipa al gregge il gregge sottoposto agli ordini del dio padrone degli ebrei dei cristiani manifesta una violenza assoluta per chi non partecipa al gregge ma vive in sistemi sociali che offrono maggiore assistenza e maggiori benefici sociali un esempio lo abbiamo nella critica di Celso secondo cui gli ebrei davano scandalo perché continuavano a fare figli incuranti delle possibilità del sistema sociale di garantire loro delle buone condizioni di vita questa critica di Celso la potremmo riprodurre come critica a tutti i comportamenti dei missionari cristiani che stanno devastando l'Africa e le Americhe in questo momento la violenza che il gregge ha sottomesso al dio padrone degli ebrei e dei cristiani pratica nei confronti di chi non è parte dello stesso gregge o appartiene a gregi diversi è finalizzata alla soprafazione e al genocidio la pratica della soprafazione e del genocidio viene sviluppata attraverso la costrizione dei figli al servizio dei genitori figli ai quali si distrugge la tensione verso l'infinito per metterli al servizio dei genitori che hanno non solo cessato di manifestare tale tensione ma paura di tale tensione tanto da reprimerla costantemente ai nuovi nati al fine di placare la loro ansia il genitore anziché costruire un sistema sociale che gli garantisca delle buone condizioni di vita distrugge nel figlio la tensione verso l'infinito al fine di assicurarsi un servo un servo che incapace di costruire a sua volta delle buone condizioni di vita sarà sopraffatto dall'ansia di costringere il proprio figlio a fargli da servo perché il futuro della propria vecchiaia lo terrorizza con questo comandamento il gregge generazione dopo generazione si chiude su se stesso manifestando l'ansia che lo difenda dalla paura di dover affrontare il futuro l'ansia porta il gregge a comportamenti violenti e distruttivi nei confronti di quei sistemi sociali che hanno costruito delle condizioni sociali che garantiscono ai loro figli di guardare il tempo che viene nel loro incontro un altro aspetto da valutare è lo squallore di questo dio se tu sei servo dei tuoi genitori dice io prolungo i tuoi giorni sulla vita non c'è nulla oltre la morte del corpo fisico tu sei sulla terra tu sei nella stalla tu sei nel recinto se ti comporti come io voglio che tu ti comporti ti porto al macello un po' dopo ti faccio vivere sulla terra un po' di più io come dio padrone decido quando tu devi morire ciò è a piacere mio distruggi la tua vita servendo i tuoi genitori e io ti concedo qualche giorno di più più squallido di così non so non uccidere di questo ne abbiamo già parlato nella prefazione della seconda parte l'atrocità di quest'ordine sta nel fatto che il non uccidere è imposto da chi ha appena fatto una strage dei primogeniti egiziani per il solo gusto di fare una strage dei ragazzini egiziani anche di animali chi dà l'ordine alle persone del greggio di non uccidere è chi si è macchiato di uccisioni atroci le persone del greggio non possono uccidere per risolvere i loro problemi il dio degli ebrei e dei cristiani risolve i propri problemi di possesso degli esseri umani mediante uccisioni e stragi nello stesso tempo ordina a Mosè di uccidere e far uccidere chi non obbedisce agli ordini delle persone uccidono in violazione del non uccidere al fine di garantirsi che le persone non uccidano allora l'ordine dato dal comandamento non è non uccidere interpretato come ordine assoluto a tutti e in ugualianza ma deve essere interpretato nel modo corretto tu non devi uccidere io posso quando lo ritengo uccidere o ucciderti quel io posso quando lo ritengo uccidere non viene determinato da una condizione giuridica o di diritto ma viene determinato dai rapporti di forza che si stabiliscono all'interno di un sistema sociale quei rapporti di forza come dice Paolo di Tarso sono le volontà del Dio padrone degli ebrei e dei cristiani il comandamento va dunque interpretato nel senso che le persone devono abbandonarsi a qualunque perversione a qualunque intrigo truffa e omicidio al fine di garantirsi all'interno del sistema sociale quel rapporto di forza che permette loro di uccidere sia all'interno che all'esterno al fine di poterlo fare nella grazia e nel nome del Dio padrone questa interpretazione è corretta al punto tale che i cristiani una volta che ebbero il controllo del comando sociale a Roma procedete tra la distruzione della medicina al fine di consentire al loro Dio padrone di uccidere tutti quelli che lui voleva per i cristiani era il loro Dio padrone in diritto di dare morte o salute mediante la propria provvidenza la domanda è il Dio padrone degli ebrei che uccide può essere processato per delitto se la risposta è sì allora il sistema sociale può darsi delle norme giuridiche atto a disciplinare le relazioni sociali fra le persone e fra le persone il comando sociale se la risposta è no allora l'unica regola vigente nel sistema sociale è uccidere per sopraffare purché il più forte non ti uccida per non essere sopraffatto fate un po' voi non commettere adulterio il non commettere adulterio è un comandamento imposto all'essere umano affinché non esca dai propri confini le persone intese come bestiame del greggio sottomesse dal Dio padrone sono relegate entro uno spazio circoscritto il non commettere adulterio è l'ordine di non uscire da quello spazio circoscritto al fine di soddisfare i propri bisogni non esistono delle finalità per le quali l'adulterio è proibito il Dio padrone non dice perché è proibito d'altronde il Dio padrone non spiega mai perché impone questo o quell'ordine commettere adulterio fornicare significa liberare dai limiti la soddisfazione dei propri bisogni di natura sessuale se i bisogni di natura sessuale sono liberati dai limiti imposti non esiste da parte del Dio padrone e da chi ne manifesta il terrore nel sistema sociale la possibilità del controllo emozionale degli individui ne consegue che la capacità di terrorizzare del comando sociale perde il consenso alla sua attività terrorizzante di quegli individui che avendo posti ferre i limiti o avendo pulsioni sessuali che non comportano la necessità di liberazione da quei limiti alla propria espressione sessuale vedono nell'attività di repressione del deviante una conferma alle proprie scelte l'attività di repressione di un comando sociale nei confronti dei comportamenti sessuali di persone del sistema sociale è possibile soltanto perché una parte delle persone di quel sistema sociale fa di quella repressione una riaffermazione di se stessi i motivi per i quali non commettere l'ulterio vengono posti dalle persone che devono costringere altre a non commettere l'ulterio è chi reprime fisicamente e militarmente la sessualità degli esseri umani che manifesta le sue spiegazioni di volta in volta funzionali alla sua attività di repressione impediamo la sessualità perché porta malattie venere le malattie si combattono proprio praticando sessualità in realtà era la sessualità che si vuole impedire e si usavano le malattie venere a puro scopo terroristico come sta avvenendo oggi per l'AIDS dal momento che il dio padrone degli ebrei dei cristiani vuole impedire la pratica della sessualità delle persone i missionari cristiani predicano il non uso del preservativo al fine di diffondere le EDS e con esso il terrore per la sessualità non esistono spiegazioni per il comandamento che non siano quelle dell'odio per la sessualità umana che ne ha il dio degli ebrei dei cristiani pertanto le persone devono rimanere pecole dal gregge e terrorizzate all'idea di uscire dal gregge in qual modo si può ottenere questo meglio questo se si riesce a circoscrivere la manifestazione dei bisogni delle persone entro un ambito ristretto del gregge stesso l'appartenenza al gregge ti garantisce che tu puoi manifestare in quel modo moralmente approvato dal dio padrone i tuoi bisogni generazione dopo generazione solo in quel modo puoi soddisfare i tuoi bisogni sessuali al punto tale che noi oggi assistiamo a crisi di identità maschili dovute al fatto che gli esseri umani maschi sono educati a soddisfare i propri bisogni come ha insegnato loro il dio padrone dei cristiani mentre l'essere umano femminile sta uscendo dalla costrizione che il dio padrone dei cristiani gli ha imposto la crisi generazionale della sessualità odierna è frutto dell'attività di terrore che i cristiani hanno imposto e stanno imponendo sugli uomini attraverso il comandamento non commettere adulterio ricordo inoltre che la pratica del sesso per il sesso agisce direttamente sulla struttura emozionale e la libera dalle costrizioni nel mito di Grecia antica c'è Eros colui che sorge dal nulla ed è manifestato da ogni coscienza di sé che si forma col tempo la figura di Eros si trasforma e diventa amore quale figlio di Venere Eros che scioglie i legamenti viene visto dai greci come l'atto d'amore e il sesso carnale capace di sciogliere le costrizioni emotive di questo il Dio padrone degli ebrei prima e dei cristiani poi ne ha paura sciogliere le costrizioni emozionali significa costruire la libertà soggettiva meglio finalizzare il lato sessuale solo alla procreazione di nuovo bestiame a disposizione del Dio padrone e ridurre quando è possibile la pratica del sesso da parte degli esseri umani così diventeranno animali fobici e docili all'interno del recinto di proprietà del Dio padrone e dei suoi rappresentanti va bene facciamo un altro non rubare anche il comandamento non rubare non è né finalizzato né specificato non si specifica né il soggetto che possiede né le condizioni che formano il possesso né le modalità per le quali questa azione è definita rubare nei proverbi egiziani è scritto non spostare la pietra di confine oppure non sottrare qualche cosa al povero o alla vedova esistono delle azioni dei soggetti identificabili per ciò che è riprovevole nessuno direbbe che rubare è giusto ma ogni persona sul rubare proietta ciò che ella immagina sia l'azione di rubare l'azione del rubare diventa più o meno riprovevole a seconda dei rapporti di forza sociale manifestati da chi sarebbe derubato oggi diremmo che anche l'accumulo di plus valore anche se giuridicamente è consentito nella misura in cui si rispetta la norma giuridica da un punto di vista squisitamente filosofico è un rubare in quanto sottrae valore a chi quel valore ha prodotto così chi detiene il comando sociale dice questa persona ha rubato l'essere umano alcune migliaia di anni sono era un essere animale raccoglitore prendeva dalle piante della natura quanto gli serviva era questa azione un rubare gli esseri vegetali fanno in modo che i propri frutti siano appetibili affinché altri esseri li mangino e ne disperdano i semi quegli esseri stanno rubando per il dio padrone degli ebrei e dei cristiani e la risposta è sì stanno rubando questa è la risposta di ebrei e cristiani perché le persone possono appropriarsi di beni di qualunque natura questi siano solo mediante fatica sottomissione o la fatica del lavoro o la sottomissione al comando sociale che è l'unico proprietario dei beni anche naturali di cui il popolo di cui il comando vive provate a ricordare quando era proibito cacciare pascolare o raccogliere legna nelle terre del re o della parrocchia la terra è la proprietà del comando sociale che la concede in gestione solo al fine di rafforzare se stesso mediante la gestione stessa i feudatari le lotte feudali i servi della gleba eccetera erano un modo attraverso il quale sancire sui popoli il diritto di padronanza dell'imperatore l'imperatore baciava i piedi solo il papa cattolico fu la nascita della moneta e delle società mercantilli che facendo nascere il capitale finanziario costruì un diverso modo attraverso il quale controllare le persone per contro le persone ebbero accesso alla ricchezza e poterno sia pur tra mille vicissitudini comprasse la casa la terra ma soprattutto quella libertà di movimento e di cultura che ha portato le persone ad uscire dall'orrore cristiano il concetto di rubare si è modificato ciò che un tempo aveva valore la lenda abbandonata ad esempio oggi non ne ha più ciò che è rimasto è la finalità per la quale il comando vieta di rubare impedire alle persone diventare indipendenti dalla capacità di controllo e di dominio del comando sociale e costruire una propria esistenza in funzione dei propri bisogni lo so che la nostra idea sociale oggi è diversa da quanto esposto però il problema è che chi segue questi comandamenti deve far sì che le persone non siano soggetti di diritto ma soltanto oggetti di carità che cos'è l'opposto a rubare quando si è nel bisogno è il chiedere è chiedere un dono di buon cuore è chiedere la carità chi chiedere la carità si umilia per avere ciò che gli necessita quando una persona si umilia il comando sociale ne detiene il possesso emozionale dunque che le persone non rubino ma chiedano la carità o si ammazzino la schiena per la fatica del lavoro il non rubare è la finalità di trasformare le persone in soggetti bisognosi che non prendono quanto serve loro ma che siano supplici nei confronti del comando sociale trasformare le persone in miserabili non confondiamo il non rubare dei comandamenti con le regole delle società civili oggi in vigore che determinano le regole della proprietà e la formazione della proprietà queste regole appartengono a quello che viene definito l'antico diritto romano che ha visto nel diritto mercantile prima e nelle società illuministe poi la possibilità di ogni soggetto di accumulare una quantità di ricchezza che possa servirgli per vivere il non rubare della Bibbia è quello imperativo il cui fine è trasformare esseri umani e popoli in accattoni io chiudo qui la trasmissione magia stragoneria paganesimo con i dieci comandamenti e li finirò la prossima volta ricordate che in internet cercando con google i dieci comandamenti questo testo ve lo potete scaricare gratuitamente come tutti i testi che ho scritto sono tutti in internet e ve li potete scaricare vi ricordo io sono Claudio Simeoni mi indirizzo è piazzale parmesano 8 marghiera vi do l'indirizzo l'istituto militare degli studi poteristi che è casella postale 53 Marostica a Vicenza vi ricordo che ad agosto c'è il rito sull'altipiano di Asiago e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione di magia stragoneria e paganesimo ciao a tutti e a risentirci a giovedì ciao ciao